che oggi le persone scartate, soprattutto le persone di mezza età, scartate improvvisamente da questa società, sono milioni. E quindi si faccia forza e consideri la sua condizione in qualche modo, anche in qualche modo, un punto di battaglia per tante persone che non hanno la sua forza, il suo coraggio, la sua dignità per rivendicare le stesse cose. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che voglio dire però è che noi viviamo, c'è un grande film di Ken Loach che si chiama, mi chiamo Daniel Blake, che racconta tutte storie simili, anzi andrebbe fatto vedere in prima serata. È meraviglioso, è un grande film, ha ragione gremata. Esatto, esatto. Ecco, noi siamo di fronte a un sistema che produce poveri, che scarta le persone, poi ipocritamente dice io li aiuto, li assisto, però siccome i soldi messi a disposizione per aiutare i poveri sono inferiori a quello che serve, ecco che poi si mette in campo una gigantesca burocrazia che ha solo il compito di togliere i diritti. Questo è il punto. La burocrazia che c'è in campo oggi su tutto il sistema di assistenza ha l'impulso di selezionare, togliere, scartare, tu non ti aspetta, quest'altro non ti aspetta, tu quest'altro, e questa è la verità. Quindi si ha un meccanismo che apparentemente concede dei diritti. Poi il compito della burocrazia, invece che rendere questi diritti agevoli, e lo so che non sei d'accordo, ma è così. I falsi invali non ce li siamo inventati oggi, quelli che prendono le pensioni non ce li siamo inventati oggi. Il principio, sì, vale il principio, vale il principio. No, ma dobbiamo decidere cosa vogliamo. No, vogliamo controllare che prenda chi ne ha diritto, perché se lo prende chi non ne ha diritto, poi non ci sono più soldi. No, allora, scusate, non è così. Allora diamo anche a chi non ne ha diritto. Sono due concetti diversi, i controlli sono sacrosanti, l'elemento dell'urgenza deve essere fondante rispetto all'urgenza, secondo me. Sto dicendo che non bisogna fare controlli. No, fammi finire. Buono, buono. La vessazione è un'altra cosa. Quando un sistema, io lo ripeto... Non è stato vessato. Sì, come no. Allora, Cremaschi, si fermi un istante. Cremaschi...